ciao ragazzi bentrovati in un nuovo video allora andiamo subito al sodo come piaccia ma vi capita mai che lo spazio su c ossia dove avete windows si riempia misteriosamente e per più che pugliate i temporanei o roba del genere lo spazio occupato aumenta sempre di più è molto semplice allora con gli aggiornamenti di windows gli aggiornamenti dei driver le immagini per il ripristino di windows si accumulano e quindi va a occupare dello spazio su c giustamente quindi come possiamo fare per ripulire un po il nostro sistema andiamolo a vedere allora per prima cosa vi consiglio di usare revo un installer per disinstallare le applicazioni allora cos'è che faremo un installer a differenza del solito un installer di windows praticamente permette di disinstallare le applicazioni le configurazioni utenti e le voci di registro allora prendiamo un app sacrificabile fastone photo resizer che tanto non lo sto usando facciamo disinstalla se volete create un punto di ripristino ma io non lo faccio mai parte l'un installer base del dell'applicazione disinstalla poi io faccio la scansione sempre moderata che non è troppo invasiva ta 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 lui cerca 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 ed ecco in questo caso ho trovato delle voci di registro non ha trovato configurazioni utente se no vi dava anche le configurazioni utente selezioniamo tutto elimina sì e l'abbiamo eliminato in secondo luogo allora vedete che qua c'è lo spazio su c che ce ne sono 84,2 disponibile allora andiamo su windows su cortana qui su cerca insomma pulizia disco unità c facciamo pulizia di sistema lui cerca e ci sono 1,26 gigabyte che si possono cancellare qui potete trovare anche gli aggiornamenti di windows due cose che vi consiglio di non cancellare sono la cache shader dei directx perché tanto quando giocate ve lo rifà insomma e i file di ottimizzazione di recapito per il resto sta roba potete andare eliminare un po tutto però prima qua c'è ripristino configurazione di sistemi ai coppie shadow praticamente quando windows salva un'immagine del sistema per il ripristino ve ne accumula tantissime in memoria allora voi cosa fate con quest'azione voi praticamente lasciate l'ultima ed eliminate tutte le altre esegui pulizia elimina poi qua fate ok eliminazione file ok adesso da 84,2 aggiorniamo siamo passati a 91,4 altra cosa che se avete come nel mio caso ho un processore md o una scheda video md io le ho entrambe aggiornando i driver del chipset o della scheda video vi ritroverete in c amd i vecchi driver potete scegliere di eliminarli e siamo passati a 92,7 altra cosa che io faccio che però molti sconsigliano è usare cicliner allora io mi sono sempre trovato bene naturalmente a revo ea cicliner vi lascio il link in descrizione così se volete ve li scaricate allora io essenzialmente lo lascio per com'è però dal browser che utilizzo di solito che utilizzo edge chromium non cancello i cookie non cancello le sessioni le password salvate insomma cancello solo la cache internet la cronologia internet la cronologia dei download e l'ultima collocazione dei download faccio avvia pulizia continua e abbiamo pulito circa 2 giga altra cosa che faccio è ripulire un po il registro problemi non me ne ha mai dato quindi l'ho sempre continuato a fare qui vi chiede se volete salvare un file di registro per ripristinare se non vi sentite sicuri fate sì altrimenti fate tranquillamente no ripara selezionati chiudi adesso andiamo a vedere lo spazio che abbiamo 94,7 abbiamo recuperato una decina di giga in poche semplici mosse ok ragazzi questa era una piccola pillola come quelle che piacciono giova spero che vi piaccia anche a voi e niente per questo video era tutto enjoy